Tiki Taka B2B E approfittiamo per dire che cosa nasce perché sostanzialmente con quel tipo di evento abbiamo fatto nascere il programma di B2B. Quindi raccontiamo un po' ai nostri amici che cosa è successo e com'è andata e soprattutto che cosa parte da quel giorno della nascita che è il 25 di ottobre. Allora io Andrea farei un piccolo passo indietro per spiegare come siamo arrivati al 25-26 ottobre di quest'anno poi capiremo chi ci guarda o chi ci ascolta quando ascolterà o guarderà perché è vero che è nato questo nuovo brand B2B, è nato però a seguito di un'attività che non è nata ieri, è nata qualche anno fa che è diciamo legato un po' al mondo dei contenuti se vogliamo prenderla un po' più alla larga cioè noi abbiamo iniziato qualche anno fa a iniziare a produrre tutta una serie di contenuti che avevano ovviamente riscontro positivo da parte del mercato quindi ovviamente noi siamo nati nel 1996 nel fare attività di marketing quindi ad avere le mani in pasta a fare giorno dopo giorno le attività di marketing e quindi ad un certo punto però ci hanno chiesto gli utenti di produrre una serie di contenuti e noi abbiamo iniziato se vogliamo un po' per gioco ma senza porci grandi obiettivi dopo qualche anno che abbiamo iniziato a produrre la gente iniziava a chiederci sempre di più giusto? Sì sì giustissimo escursus perché poi tra l'altro la premessa delle premesse è tutto ciò che noi diciamo di fare ai nostri clienti, noi per primi siamo quelli che hanno sulla loro pelle provato, testato e fatto questa attività quindi noi parliamo tantissimo del tema dei contenuti naturalmente facciamo un mestiere tale per cui parlare, diffondere contenuto, diffondere informazioni è importantissimo perché il nostro mercato, i nostri clienti sono sotto acculturati ma non è negativo il termine cioè hanno bisogno di informazioni quindi chiaro che il mestiere che facciamo noi è un mestiere che si addice perfettamente alla produzione di contenuti ma il messaggio importante a dare è più di tre anni fa abbiamo iniziato in prima persona non solo a metterci la faccia ma metterci il tempo, metterci proprio carta, penna, blog, contenuti, video che poi è stata una escalation e in questa escalation webinar, vari momenti di diffusione, vari momenti e vari mezzi è chiaro che i feedback che raccoglievamo erano estremamente positivi, parentesi perché il taglio non è assolutamente didattico ma è spiegare agli altri ciò che noi facciamo per noi e per i nostri clienti quindi è chiaro che questo traspare, l'esperienza che noi abbiamo è un'esperienza operativa, non siamo, lo diciamo sempre, non siamo dei formatori, non siamo gente che di mestiere ha la formazione come il core business è chiaro che è nata B2B che è ufficialmente la costola formativa dell'ipogrifo ma è una costola, è una parte e per fare bene marketing abbiamo capito più volte in varie puntate come sia importante lavorare con i brand quindi se dobbiamo identificare dentro l'ipogrifo quell'area che di mestiere fa diffusione del contenuto professionale e formazione abbiamo creato B2B riprendiamo al volo il tema dell'evento ma come dicevi tu ripercorrendo quindi abbiamo iniziato nel tempo a produrre del contenuto a un certo punto abbiamo deciso anche noi di fare il primo evento ufficiale il primo evento ufficiale che c'è stato qualche giorno fa, ancora un piccolo appunto perché secondo me è utile per chi ci sta noi abbiamo iniziato qualche anno fa a produrre un po' di contenuti perché bisogna dire abbiamo iniziato non con il quantitativo attuale noi oggi siamo presenti su molte piattaforme e produciamo parecchi contenuti giornalmente ma non siamo partiti subito così siamo partiti con il blog che scrivi in questo momento personalmente tu e abbiamo iniziato con un contenuto alla settimana perché dico questo? Perché chi oggi magari ci ascolta o ci segue non deve pensare ok ma come faccio io Facebook, YouTube a produrre un quantitativo così enorme di contenuto ogni giorno attenzione perché noi non siamo partiti subito così abbiamo fatto un percorso che poi ci ha portato a produrre tanto contenuto e arriviamo poi quindi a B2B. Abbiamo fatto questo evento che ha superato di gran molto le aspettative perché? Perché gli scontri sono stati questi nel senso che le persone quello che ci hanno detto durante l'evento è stato secondo me molto interessante anche il momento di confronto durante le pause con gli imprenditori secondo me hanno percepito molto perché questo è quello che ci hanno detto la qualità del contenuto forse dico io anche perché noi deriviamo da l'esperienza cioè quindi noi abbiamo parlato di quello che viviamo quotidianamente secondo me questo è stato colto oltre al fatto della forte specializzazione sul contesto del tipo B2B quindi questo è un po' quello che è successo. Il messaggio che vogliamo dare anche è naturalmente tutto ciò non è precluso a nessuno a prescindere dal settore in cui opera è chiaro che portare molte decine di persone paganti in sala non è semplice noi abbiamo iniziato a preparare questo evento quasi un anno prima della sua abbiamo iniziato le prime bozze, le prime idee hanno più di un anno rispetto alla data in cui abbiamo concepito questo evento abbiamo beneficiato degli anni di lavoro del marketing fatto per le nostre imprese perché abbiamo main list, abbiamo speso pochissimi soldi per la sponsorizzazione di questo evento anzi abbiamo voluto fare un numero zero dedicato praticamente esclusivamente ai nostri contatti e così è stato e come dicevi tu abbiamo superato veramente le aspettative cioè di feedback ma non vorrei adesso stare troppo qui a parlare di ciò mi interessa che passi il concetto che è nata B2Big B2Big è una piattaforma per la formazione del marketing e delle vendite business to business quindi se i tuoi clienti sono imprese www.b2big.it trovi in questo momento tre opportunità una è un corso si chiama B2Basic tutto online sistema di learning avanzato e ti puoi vedere e rivedere i contenuti in esso implementati poi c'è la possibilità di aderire ad una membership che in linea di principio puoi anche provare per un mese in modalità totalmente free e poi c'è l'evento B2Big Live noi da lì siamo partiti quindi una volta all'anno per il momento abbiamo deciso di creare un evento importante che racchiude un po' tutti gli amici di Ippogrifo che vanno ad essere a stare assieme a fare networking eccetera eccetera naturalmente questi programmi sono in aggiornamento tra un po' di mesi questo tipo di esplicitazione cambierà perché faremo degli upgrade a vari livelli ma questa è una realtà quindi questa puntata di Tiki Taka vuole essere un po' anche un po' uno spot al mondo di B2Big ma lo facciamo senza problemi di sorta perché sappiamo il valore che c'è dietro e ci sono delle opportunità a dei pricing anche insomma che hanno l'obiettivo di fare entrare chi è interessato al mondo del marketing e delle vendite business to business quindi gli elementi differenzianti e poi nevio ti passo palla sono la forte specializzazione nel B2B quindi troverai dei contenuti pensati per le imprese che vendono ad altre aziende e grandi casi pratici tagli pratici contenuti che spiegano ciò che noi viviamo quotidianamente ok questo è ciò che è difficile trovare diciamo così nel mercato una precisazione per chi guarda questo video B2Big è o ascolta in base a quello che preferisce è in fase di aggiornamento quindi oggi hai detto correttamente tu c'è un videocorso ma B2Big sfornerà costantemente videocorsi, membership in aggiornamento, altre attività, altre iniziative quindi è un percorso diciamo in fase di sviluppo e ci interessa soprattutto i feedback delle persone perché tutto quello che noi facciamo, l'evento in primis è fondamentale che venga fatto per quello che le persone ci chiedono secondo me un aspetto molto interessante è stato tornando all'evento live raccogliere i feedback delle persone che ci hanno dato i riscontri di un certo tipo ecco mi preme sottolineare ancora una volta il fatto che B2Big ha come hai detto tu oltre alla peculiarità di essere specifico per il mondo del marketing e delle vendite B2Big quindi oggi in Italia possiamo dire che se parliamo di contenuti verticali e specifici noi siamo quelli che possono dire sicuramente la loro perché è fortemente specializzato in questo e soprattutto molti casi pratici cioè anche quello che ha caratterizzato l'evento è stato proprio questo cioè siccome noi non nasciamo formatori ma noi le cose le facciamo giorno dopo giorno ecco che noi se dobbiamo spiegare un caso teorico cioè se dobbiamo spiegare un concetto poi lo associamo anche al caso pratico anche perché chi ascolta, chi vede, chi vuole fruire di un contenuto è molto più semplice per lui capire dei contenuti se sono associati a un caso pratico caso pratico di PMI italiane perché spesso oggi nel mondo dei contenuti, nel mondo della formazione quello che riscontriamo è che spesso si portano dei casi di grandi multinazionali spesso americani che possono andare bene che però noi parlando con gli imprenditori gli imprenditori dicono ok lo vedo distante ma io sono una PMI che fattura qualche milione di euro io sono il titolare come faccio io ad applicare questo concetto ecco io noi ti porteremo come esempio l'esempio di PMI che ha fatto un certo tipo di percorso e quindi questo è molto più facile. certo quindi concluderei dicendo se vuoi rimanere aggiornato sul marketing e le vendite business to business se vuoi vedere degli esempi pratici, se vuoi portare ad un livello superiore la tua conoscenza e parentesi quella del tuo staff, quella degli uomini che sono i tuoi bracci destri nell'area marketing e vendite b2big.it è certamente la piattaforma che fa per te abbiamo fatto uno spottone da più di 10 minuti direi che può bastare thanks for all b2big.it ciao e alla prossima puntata ciao ciao